Perché investire nel treno come un mezzo intelligente, sicuro e sostenibile? Diciamo che con il treno andiamo sul sicuro, perché ha una lunga storia e ha anche un futuro che già conosciamo, perché i treni veloci li abbiamo già sperimentati ormai da qualche decennio. Qui sulla prima immagine vedete un treno nuovo, è un blues, questo è un treno ibrido trimodale, cioè viaggia con l'elettricità sulle ferrovie elettrificate, viaggia con il motore diesel dove non c'è elettrificazione e nelle stazioni delle ferrovie che non sono elettrificate può andare a batteria, quindi senza alcun tipo di inquinamento. Sono treni nuovi, arrivati da poco e sono quindi come ibridi un esempio di tecnologia del treno che si evolve. Della ferrovia naturalmente potremmo parlare molto in termini storici, lo accenniamo soltanto perché guardiamo invece qual è il futuro del treno. Intanto il treno ha portato allo sviluppo, lo ha portato a partire dal XIX secolo, quando il treno era l'unico legame tra la vita civile e il contesto in cui si trovavano le comunità minori, perché all'inizio la ferrovia arriva nelle città principali, poi si estende nei paesi e in questi paesi, prima nelle città e poi nei paesi, porta allo sviluppo economico. Che vuol dire? Vuol dire per esempio che i prodotti, che prima erano soltanto locali, cominciano a diventare nazionali. Si aprono negozi di prodotti che prima non si trovavano perché arrivavano dall'industria e quindi questo dà luogo ai mercati nazionali. Oggi siamo alla ricerca invece della filiera corta, quindi di prodotti del territorio, ma allora c'era una forte ricerca di prodotti che veniva da altri luoghi perché tutto quello che non si aveva a casa poteva in questo modo, con il treno e con i nuovi. Negozi, il nuovo commercio poteva essere presente anche nei paesi. Chi non aveva il treno, d'altra parte, viaggiava a cavalli, quindi sembrava fermo al Medioevo. Il treno dà per la prima volta una rete nazionale, cioè c'è una rete nazionale di trasporto in cui città e paesi vengono inseriti. Quindi man mano che le costruzioni ferroviarie vanno avanti, la rete di trasporto ferroviario raggiunge molte località. Fino al massimo degli anni 30 del Novecento, qui abbiamo una rete diffusa un po' in tutti i paesi europei. Guardiamo che significa la rete ferroviaria diffusa, per esempio abbiamo qui una cartina del 1936, con le ferrovie dello Stato, le ferrovie in concessione a imprese locali e le tramvie, le ferrovie in concessione sono quelle rosse, le tramvie estraurbane sono quelle verdi. E vediamo intorno a Torino una rete molto ramificata, che arrivava comunque anche negli altri capoluoghi, che arrivava in molti paesi della campagna piemontese. Quindi le ferrovie secondarie e le tramvie estraurbane, che oggi non ci sono più, ma rappresentavano una rete abbastanza ramificata, apportarono i benefici della rete ferroviaria anche nelle aree periferiche, nelle aree minori, nelle aree interne, come si dice oggi. I tram quindi erano sia urbani che estraurbani. Quegli estraurbani non li conosciamo più, non li conosciamo più perché erano tutti chiusi, ma c'erano ed erano importanti per legare con la rete ferroviaria a tutte le località minori. In questa diapositiva vediamo la rete della Lombardia, che era naturalmente la più estesa d'Italia, perché attorno a Milano c'era già nel 1936 una densità di popolazione superiore a quella delle altre regioni italiane. Qui vediamo che verso l'Abrianza, verso Camus, verso Paris, c'era una rete molto ramificata di ferrovie, che sono quelle nere, ferrovie in concessione, erano le nord Milano, che sono rosse, e poi quelle verdi sono le tramvie estraurbane. Nell'immagine a destra vediamo invece una cartina dell'Italia con le ferrovie dello Stato nel 1975. È una rete simile a quella di oggi, però purtroppo nel corso del tempo hanno chiuso alcune tratte minori, quindi la rete è più ridotta rispetto a quella che c'era nel 1975. quindi circa 40 anni fa. Ecco, qualche esempio di chiusura, la ferrovia delle Dolomiti, questi sono stati degli errori enormi, perché hanno causato l'esormento delle aree interne. La ferrovia delle Dolomiti che andava da Calalso, nel Cadore, fino a Cortina d'Ampezzo e a Dobbiaco, chiusa definitivamente nel 1964, e oggi Cortina, se avesse la ferrovia, sarebbe una delle più sostenibili, e più irraggiungibile. Poi abbiamo la Spoleto-Norcia, siamo in Umbria, chiusa nel 1968, la Saline-Volterra, era una ferrovia cremagliera con una rotaia dentata centrale che aumentava l'aderenza per salire sulla collina di Volterra, che c'è una forte pendenza da Saline, ecco questa chiusa nel 1958, Volterra ha dimezzato gli abitanti da allora, e una delle ultime è la ferrovia della Sida, tra Cosenza, Camigliatello, Silano e San Giovanni in Fiore, che è stata chiusa tra il 1997 e il 2010, e ora si parla della riapertura, perché è fondamentale per dare l'accessibilità alle aree interne e anche per far arrivare i turisti, che oggi sono naturalmente una risorsa economica importante per il territorio, lo sappiamo tutti, non c'è bisogno di dirlo, ma se c'era il treno i turisti ci arrivavano molto meglio e in misura meno impattante rispetto ad arrivare singolarmente con le auto di proprietà. Quindi perché oggi investire nel treno dopo lo scempio del taglio dei tanti rami secchi e l'abbandono che il treno ha subito nella seconda metà del Novecento in poi? Bisogna investire nel treno perché intanto ci sono le emissioni, il settore dei trasporti rappresenta circa un quarto delle emissioni di gas e clima alteranti, in particolare l'anidride carbonica in Europa, e di questi il 71% è prodotto dagli autoveicoli, quindi autocamio e moto. Inoltre gli autoveicoli sono responsabili della maggior parte delle emissioni locali dei polveri sottili, che sono quelli che fanno male alla salute, non soltanto fanno male per motivi respiratori, che forse si curano meglio, ma fanno male anche per i tumori, fanno venire anche i tumori, in particolare il particolato fine, il PM2.5 che poi vediamo è un qualcosa che è cancerogeno, non so se è scritto dappertutto, ma nessuno naturalmente lo vuole guardare perché vogliamo tutti andare in macchina dove ci pare. Quindi investire nel trasporto pubblico è una scelta non rinviabile, a partire dalle emissioni. Il treno ha una quantità di emissioni vicino allo zero, come si vede in questa torta, delle emissioni clima alteranti, il 71% è dovuto al trasporto stradale, il 13,9% non poco al trasporto aereo, il 13,3% al trasporto navale, che però è molto molto consistente, il trasporto navale ci sono dai traghetti alle navi merci, e vede che la ferrovia è uno spicchio quasi impercettibile perché è a percentuali sotto l'1%, quindi il treno inquina pochissimo, questo è uno dei motivi per cui il treno va promosso assolutamente. Se guardiamo il tasso di motorizzazione, vediamo che l'Italia è tra i primi paesi d'Europa per la verità e anche tra i primi paesi del mondo, cioè pochi stati del mondo, tra cui gli Stati Uniti e qualche città, stato tipo Singapore, Hong Kong o il Principato di Monaco, hanno un tasso di motorizzazione più alto dell'Italia, quindi ha un record mondiale di motorizzazione, che non è un record positivo, vuol dire che tutti possiedono l'automobile e alcuni ne possiedono più di una e questo non è indice di civiltà, è indice di inciviltà, perché vuol dire che ci si sposta in gran parte, quasi tutti, con il mezzo privato, portando problemi di congestione stradale, di inquinamento, di emissioni di gas e climalteranti, fino ad arrivare in situazioni drammatiche, una delle ultime che è venuta fuori in questi giorni nella cronaca è la costiera, la penisola sorrentina, la costiera amalfitana, dove non sanno più come fare per contenere l'afflusso di turisti che arrivano con il proprio veicolo individuale, quindi bisogna arrivare in un altro modo, per esempio il treno, che fino a Sorrento c'è, poi da Sorrento in giù verso Salerno non c'è, da Amalfi e Positano, ma in quel caso bisogna raccordare il treno con i pullman e non andare tutti con il veicolo privato. Questo è l'inquinamento del PM 2.5, è il cosiddetto particolato fine, quindi è la frazione delle polvere sottili più piccola e qui vediamo, lo sanno tutti, ormai lo faccio vedere sempre, c'è scritto dappertutto, esce via via sui giornali, se ne parla in televisione, la pianura padana è il luogo più inquinato d'Europa, con incidenza molto negativa sulla salute per vari tipi di malattie che ho un po' accennato prima, quindi è urgente fare qualcosa, però al momento si sta facendo poco. Intanto c'è un elemento chiave che nessuno considera, è necessario diffondere una nuova cultura, perché se non c'è un substrato culturale nelle cose non si affermano, quindi diffondere una nuova cultura per far comprendere il valore del trasporto collettivo, e in particolare del treno, che è quello che inquina di meno, perché spesso ci si scontra con una cultura individuale individualista, cioè ognuno pensa per sé, tutto questo è indotto dal consumismo, che ci hanno fatto comprare la macchina, poi la seconda macchina, poi ci hanno fatto cambiare la macchina per motivi ambientali, ma tutti abbiamo l'auto, quasi tutti, altrimenti c'è una piccola quota residuale che non guida, un po' sono gli anziani, un po' sono i ragazzi, fino a 16-18 anni, perché ormai sono i quadriciti al motore che si guidano a 16 anni, poi c'è qualche uno che non prende la patente per scelta, e quindi c'è una quota residuale che non usa la macchina, ma quasi tutti comunque, hanno la macchina e sono legate all'automobile nei loro spostamenti quotidiani, nelle loro vacanze, ferie e così via, quindi tutto questo individualismo indotto dal consumismo, perché abbiamo tutta una serie di imprese che ci fanno comprare quello che vogliono loro e non quello che ci serve, esempio il caso del SUV, per chi c'è della macchina più grossa, dello Sport Utility Vehicle, che è più grande delle altre, per chi va soltanto in giro per la città o per il suo internet, è una cosa che non serve a niente, ce la fanno comprare perché ci sembra di essere più protetti, più bravi, più belli, più ricchi e così via, quindi sono degli errori che dobbiamo in qualche modo battere con una cultura diffusa di tipo diverso che recuperi il tema del trasporto collettivo, per esempio noi abbiamo in Italia in particolare una forte sfiducia nei confronti delle reti collettive di trasporto, cioè il treno è in ritardo, non arriva mai, sarà sporco, invece non è sporco, sono quasi tutti nuovi, ma sono diciamo dei luoghi comuni che continuano a imperversare che a livello di mentalità diffusa fanno sì che ci sia poca propensione a utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, quindi bisogna scommettere molto sulla cultura della mobilità sostenibile e invece particolarmente in Italia e in altri luoghi d'Europa sono molto più avanti di noi, si continua a ragionare come si ragionava nel Novecento, cioè il tema è attuare la cura del ferro che si dice ormai da decenni, la cura del ferro vuol dire mettere più rotaie, mettere più treni, treni più veloci, più comodi e così via, invece si è continuato negli ultimi decenni a tagliare rami ferroviari isolando sempre più le aree interne come abbiamo visto, poi da anni si dice di voler trasferire le merci dal camion al treno e non si è fatto su questo quasi niente, eppure il treno non è un oggetto del passato, è proprio un elemento chiave per il futuro del pianeta, basta guardare cosa fanno in Cina, hanno fatto delle ferrovie completamente nuove, una che è quella per il Nepal, quindi se i cinesi che sono proiettati molto nel presente e nel futuro usano il treno e promuovono il treno vuol dire che noi siamo rimasti indietro, che abbiamo qualcosa ancora nella nostra mentalità che ci frena, eppure nonostante questo è in atto un rinascimento ferroviario, è in atto dall'ultimo decennio del ventesimo secolo e in particolare nei primi due decenni del ventunesimo, cioè si è cominciato a manifestare un rinascimento ferroviario con i nuovi treni a alta velocità che hanno cambiato la geografia dell'Italia, per esempio da Roma a Milano ci vogliono meno di tre ore col treno e quindi la maggior parte delle persone oggi va in treno invece che in aereo, qui siamo sempre sul tema della concorrenza che io ritengo sia un tema tremendamente sbagliato ma ormai ci siamo immersi da qualche decennio cioè quando c'è il treno l'aereo non ci deve essere invece continuano ad andare i voli tra Milano e Roma quando il treno ormai è più conveniente la maggior parte delle persone prende il treno in Francia stanno proibendo i voli nelle fratte dove c'è il treno ad alta velocità comunque il treno ecco con le tre ore almeno di tre ore tra Milano e Roma ha cambiato la geografia d'Italia l'ha accorciata evidentemente fino a fare concorrenza all'aereo prima ci si metteva cinque ore con i treni più veloci da Roma a Milano ci si mettono meno di tre e c'è anche la concorrenza tra Italo e le frecce di Trian Italia poi ci sono stati passanti ferroviari per esempio quello di Milano e quello di Torino che hanno dato particolarmente a Milano una svolta nell'ambito della mobilità dell'area metropolitana ma sono tutte cose degli ultimi anni a Parigi si cominciò a farli nel 1969 oggi che cosa c'è da fare ecco vediamo questo intanto il trasporto merci qui abbiamo detto che l'alta velocità c'è prosegue sta proseguendo per esempio con la Napoli-Bari poi si sta progettando di andare sotto Salerno verso la Calabria con l'alta velocità ora il tema è cosa fare nel trasporto merci e qui ci vogliono forti investimenti perché in Europa in media viaggiano su ferro il 20% delle merci circa anche se Svizzera e Austria sono al 35% basta andare oltre il confine per esempio da San Candido in Val Pusteria si va verso Lienz e si vede subito dopo il confine il trano merci che in Italia non esiste più da anni oppure in Svizzera si entra in Svizzera e si vede su Ferrovie Minori anche su quella del Bernina che è patrimonio dell'umanità che parte da Terano in Valtellina e Bass e Morris c'è il trano merci in Italia sparito da tempo loro sono molto più avanti anche gli Stati Uniti che pure sono il paese del camion della zona ovviamente siamo nei trasporti ferroviari oltre il 45% quindi vuol dire che altri paesi si sono mossi in Italia invece siamo sempre al 13% scarso del trasporto merci sul ferro quindi è una cosa che riempie di camion le strade e le autostrade mentre il trano merci è assolutamente lestituale eppure dovremmo arrivare secondo quello che è stato stabilito a livello di Unione Europea dovremmo arrivare al 30% del trasporto merci su ferro entro il 2030 sarà sostanzialmente impossibile perché non ci sono più le infrastrutture sono chiusi di scala per esempio però c'è da comprare soprattutto un investimento enorme anche in cultura cioè basta spedire le merci sul camion le metti in treno il treno te lo rendo più conveniente il camion te lo rendo anche con politiche economiche meno convenienti perché se no continuano tutti a spedire con il proprio camion guardate qua questa immagine siamo in Toscana Massa zona industriale è un'area industriale molto estesa in Cia di Massa e Carrara particolarmente a una città di Massa ecco qui c'è un raccordo per il porto di Marmina di Carrara che è un porto molto grande ormai ecco questo raccordo va come dire a infilarsi nelle strade dove passano macchie e camion di continuo è solo un binario è meno elettrificato non c'erano nemmeno i fili sopra per i treni elettrici sembra che qui ci passi un treno ogni tanto mentre camion e automobili viaggiano di continuo a tutte le ore del giorno e della notte quindi come dire una presenza timida tra tante strade e centinaia di camion che comunque c'è in questo caso e va ovviamente mantenuta andrebbe anche incrementata e poi a destra vediamo l'autostrada del sole siamo sempre in Toscana nel tratto fra Firenze e Prato che ha tre corsie per ogni senso di marcia e qui vedete una fila sterminata di camion che tutti i giorni meno nei weekend perché c'è per alcune merci lo stop però durante i giorni della settimana è pieno di camion che portano le merci dappertutto mentre con il treno viaggia pochissimo quindi c'è questo elemento chiave del merci da recuperare poi c'è il tema delle ferrovie minori abbiamo detto alta velocità ok nodi ferroviari metropolitani sono andati avanti abbiamo visto il caso dei passanti sotterranei di Milano e di Torino ma ci sono molti altri interventi nei nodi delle aree metropolitane ecco invece le ferrovie minori sono rimaste decisamente indietro indietro soprattutto per il raddoppio dei binari cioè la maggior parte delle ferrovie in Europa sono a binario unico cioè un solo binario dove i treni che viaggiano in senso opposto si devono incontrare incrociare si dice con il termine ferroviario tecnico si devono incrociare in una stazione quando vanno uno in un senso uno in un altro e quindi è una potenzialità di inoltre treni molto limitata e qui si vede la situazione qui siamo nel 1998 si vede che l'Italia aveva oltre il 60% della rete a binario unico siamo qui oltre il 60% ci sono paesi come per esempio la North Macedonia o anche la Norvegia che sono vicine al 100% con il binario unico e altre invece per esempio c'era ancora il Regno Unito e qui siamo sul binario unico al percentuale del 30% quindi molto meno il Belgio è vicino al 20% con il binario unico l'80% è almeno a doppio binario o binario quadruplo quindi anche su questo c'è da investire perché altrimenti le ferrovie diventano lente molto lente piuttosto irregolari e quindi non sono appetibili per il trasporto in particolare dei viaggiatori anche se è un freno pure per le merci e qui nel 2018 20 anni dopo guardiamo soltanto l'Italia è scesa sotto il 60% ma è ancora con rete a binario unico oltre il 50% quindi la maggior parte delle ferrovie italiane continuano ad essere a binario unico quindi ci sono due modi di spostarsi il treno veloce che viaggia a 300 km orari o poco meno in altre tratti per esempio tra Firenze e Roma la vecchia direttissima consente velocità di 250 km orari altre diciamo ferrovie si stanno realizzando non a 300 km orari ma un po' meno però diciamo questo è il treno veloce ha acquisito anche una sorta di fiducia da parte delle persone che si spostano con questi treni e poi dall'altra parte ci sono i treni pendolari che intorno ai grandi nodi hanno avuto un potenziamento notevole negli ultimi anni dopodiché le ferrovie minori quasi tutte a binario unico invece sono molto lente ancora irregolari quindi continuano ad avere quella percezione negativa tipica della seconda metà del novecento che ho detto prima quindi questo era il 2018 quindi io vi ringrazio per l'attenzione a Siena abbiamo anche istituito un laboratorio per l'educazione alla mobilità sostenibile si chiama Lemos in sigla cerchiamo di insegnare nelle scuole naturalmente anche all'università anzi a partire dall'università cerchiamo di insegnare questi nuovi concetti del trasporto collettivo particolarmente su ferro perché è quello che inquina di meno che è più comodo e che diciamo dà una maggiore garanzia di regolarità se le infrastrutture sono a posto cerchiamo di far comprendere perché il treno è un investimento fondamentale per la sostenibilità del pianeta e per anche gli spostamenti quotidiani laddove il treno è presente non arriva dappertutto anzi arriva un po' meno di quanto arrivava negli anni 30 però la reti ferroviaria c'è ancora va utilizzata e va sfruttata più possibile grazie per l'attenzione e una buona giornata grazie per l'attenzione